La minoranza del comune di Abano, con un documento firmato da tutti i consiglieri, ha chiesto al commissario Aversa di convocare il consiglio comunale. Entro cinque giorni dovrebbe essere convocato per mettere definitivamente fine, e cioè sciogliere, questo consiglio comunale. Ora verrà fatta la conta e poi spazio al commissario almeno fino alla prossima primavera. I minoranze che sono sei hanno i numeri per poterlo convocare e automaticamente si prenderà atto però che un consiglio comunale legittimo deve avere almeno nove consiglieri e se non si presenteranno, come dicono, ma noi vedremo il giorno in cui verrà convocato il consiglio, se non si presentano le maggioranze prenderemo atto che non siamo in nove e quindi questo consiglio è di fatto sciolto. La scelta di non presentare contemporaneamente le dimissioni da parte della maggioranza, secondo Cosentino, è studiata per creare ulteriore confusione e poter giocare in futuro la carta sulla legittimità dello scioglimento del consiglio comunale. Ma la mossa della minoranza metterebbe al riparo la città da questa ipotesi. Lo stiamo facendo per le istituzioni, lo stiamo facendo per il commissario, lo stiamo facendo perché vogliamo essere certi e sicuri che nessuno possa impugnare per un cavillo formale lo scioglimento di questo consiglio per poter passare a una tranquillizzazione della città per un tot numero di mesi finché governa il commissario e andare a libere e legittime elezioni a breve.